Nessun finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente per la bonifica di località Capo Iaccio a Cerce Maggiore. A lanciare ancora una volta l'allarme sulla zona dei pozzi petroliferi dismessi in cui sono stati accertati sversamenti di rifiuti tossici con conseguente inquinamento delle acque, del suolo e del territorio e il consigliere regionale Michele Petraroia. Vani dunque gli sforzi delle istituzioni locali, dei cittadini e delle associazioni per ottenere le risorse necessarie mentre a Cerce Maggiore l'incidenza di malattie tumorali è persistente. L'assenza di un registro regionale dei tumori, sottolinea Petraroia, impedisce alla comunità di accedere ad un dato scientifico sull'incidenza di malattie incurabili nelle zone prospicienti, ma il solo dubbio che parte dei decessi per patologie tumorali possano avere avuto origine dagli sversamenti di sostanze tossiche in cui pozzi obbliga la pubblica amministrazione ad intervenire con maggiore efficacia sia nell'azione di bonifica che ancora non si avvia e sia in investimenti sulla prevenzione con controlli più accurati del territorio ad opera del Corpo Forestale dello Stato, del Nucleo Operativo Ecologico, dei NAS, dell'ARPA, dell'ASREM e degli enti preposti alla vigilanza in materia di ambiente salute. Merita di essere segnalata positivamente la disponibilità della Regione Molise a finanziare con 40.000 euro un intervento di recinzione dell'area interessata, ma è evidente che servirebbe un finanziamento nazionale per bonificare e mettere in sicurezza quel territorio a tutela e salvaguardia della salute della popolazione locale. Purtroppo l'azzeramento di alcuni enti, lo smantellamento di alcuni corpi e strutture non aiuta. Intanto, tra le preoccupazioni della rete, degli enti locali e dei comitati di tutela ambientale riuniti sia a Santa Croce del Sannio l'8 settembre scorso, sotto legida del Vice Presidente della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, c'è anche quella di sollecitare un rafforzamento dell'azione di prevenzione su maxi infrastrutture pubbliche, trivellazioni petrolifere o costruzioni di impianti eolici impattanti, per accertarsi che le opere di scavo, interramento di ceramento per profondità vertiginosa e realizzazione di altre opere connesse avvenga nel pieno rispetto delle vicende normative. Grazie per la visione!